dove attraverso una conferenza stampa sono stati illustrati i risultati e i dati del progetto denominato Sprint. Ce ne parla Maria Fiorella. Migliorare programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio della BAT, potenziando il sistema di governance dell'immigrazione e consolidando la rete interistituzionale dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione sociale, sanitaria e lavorativa. E' questo l'obiettivo del progetto Sprint. A Palazzo di Governo sono stati presentati i risultati conseguiti dal 2021. I risultati sono quelli di aver sottoscritto degli atti formali concreti di impegno intorno ad alcuni temi particolari e sensibili. Le istituzioni che collaborano con la Prefettura si sono impegnate appunto per rendere i servizi per le persone straniere quanto più efficaci, di qualità e accessibili soprattutto. Si è evinto che le azioni attuate nei 16 mesi presi ad esame hanno contribuito al miglioramento della capacità di analisi, lettura, comprensione ed interpretazione del fenomeno migratorio. Le barriere socio-sanitarie che attraverso questo confronto tra tutti gli enti coinvolti possono essere superate con delle strategie comuni, finalizzate proprio a favorire l'inclusione psico-socio-sanitaria delle persone migranti. Sono state dunque messe in campo strategie efficaci per il miglioramento dell'assetto e della funzionalità dei servizi territoriali rivolti ai cittadini dei paesi terzi. Tutta la Puglia è una provincia accogliente, la BAT lo è. Il polo sociale attivato in Prefettura ha offerto servizi di mediazione linguistico-culturale, informazione, orientamento e accompagnamento all'inserimento scolastico, oltre che la facilitazione all'accesso ai servizi sul territorio. Andiamo a Bari, nel centro del capoluogo regionale pugliese, dove c'è stata una manifestazione per accendere i riflettori sulla mobilità sostenibile con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale della città di Bari. Promuovere flashmob ed esperienze di educazione alla cittadinanza attiva tra gli studenti, individuando eventuali comportamenti scorretti messi in atto da automobilisti o cittadini che possono rendere inaccessibile la città. Questo è il proposito del progetto Mobilitiamoci, promosso da Comune di Bari, Polizia Locale e Automobile Club Bari-BAT, tanti volontari di associazione coinvolti, ma soprattutto ragazzi delle scuole elementari e medie, per un totale, in questo caso, di 620 unità. Per gli eventuali trasgressori, un verbale morale con indicazione di infrazioni più comuni, diversi gli istituti coinvolti ed in più zone del capoluogo, anche periferiche. Dopo circa un mese in cui siamo stati nelle scuole, con la Polizia Municipale e tantissime associazioni e realtà del terzo settore, per raccontare ai ragazzi e ai bambini l'importanza del rispetto delle regole, del codice della strada. Innanzitutto per tutelare i più fragili, quindi le persone anziane, le persone in carrozzella con ridotta mobilità o semplicemente le mamme con un bimbo in carrozzina. Oggi siamo con i bambini in giro e i loro insegnanti per combinare delle multitudini, morali, quindi per far spiegare agli automobilisti l'importanza di rispettare le regole per tutelare tutti quanti, ma soprattutto i pedoni più fragili. La Regione Puglia ha stanziato 45 mila euro per la bonifica del vallone Tittadegna di Barletta. Circa 25 mila euro andranno a rimborso dell'Amministrazione Comunale, che era già intervenuta per ripulire l'area del canale. Restanti 20 mila invece fungeranno da budget per la futura manutenzione ordinaria. Il vallone Tittadegna sarà ripulito grazie ai fondi stanziati dalla Regione Puglia. Uno dei più discussi canali di scolo della città di Barletta potrà beneficiare di 45 mila euro per la bonifica dell'area e per la rimozione dei rifiuti presenti in loco. Circa 25 mila euro sono già stati utilizzati per il ripristino ambientale. La somma era stata anticipata diversi mesi fa dal comune di Barletta, che aveva concordato attraverso il consorzio di bonifica il successivo rimborso proveniente dalle casse regionali. Gli altri 20 mila euro invece saranno utilizzabili in futuro come budget per la manutenzione ordinaria del vallone Tittadegna. Fondamentale l'installazione delle fototrappole nelle aree circostanti, principale deterrente per contrastare l'abbandono selvaggio dei rifiuti. La vicenda del vallone è stata a lungo attenzionata a livello politico e sociale, prima lo sciopero della fame e la protesta del subambientalista Antonio Binetti, poi il braccio di ferro tra l'amministrazione comunale di Barletta e vertici regionali per la competenza di intervento fino all'accordo economico deciso in Regione. Restiamo nella BAT ma ci spostiamo a Bisceglie per un'iniziativa che coinvolge tra gli altri anche i detenuti. Sentiamo perché nel servizio di Maria Fiorella. La parola detenuto nella maggioranza dei casi rima con disoccupato. Ridare fiducia attraverso il lavoro in un campo come opportunità di reinserimento, dignità del lavoro regolare e riacquisizione di un impegno lavorativo è l'obiettivo del progetto Un'altra Terra, promosso dal Comune di Bisceglie. Un percorso professionalizzante può essere la via migliore per combattere la recidiva e creare opportunità di inserimento sociale. In una conferenza stampa in Planeira, direttamente nel campo coltivato dei beneficiari, sono stati esposti i risultati conseguiti dal 2021 sino ad oggi, che ha visto nove persone in esecuzione di pena o che avessero già concluso l'esecuzione di pena, divenute beneficiari di interventi mirati al reinserimento sociolavorativo. Un progetto che oggi dà i suoi frutti, questo possiamo dirlo, ma soprattutto in realtà è un progetto che ha bisogno di continuità. La cosa più importante è la continuità, che nonostante le ostacole, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a continuare, siamo riusciti a far maturare il progetto. Questo significa rendere il progetto stabile. Siamo in uno di quei contesti in cui si cerca, anche con un certo entusiasmo ciascuno, di essere degno della fiducia dell'altro e senza distinzione di ruolo. La pena, afferma chiaramente la Costituzione italiana, deve tendere alla rieducazione del condannato. Il singolo detenuto ha dunque diritto al recupero e alla reintegrazione in società. E adesso torniamo a Bari, dove si accende l'attenzione nei confronti dei pensionati. Attraverso una tavola rotonda organizzata dalle Will, vediamo come è andata nel servizio di Antonella Fazio. Promuovere l'azione di modelli sostenibili di produzione e di consumo, sensibilizzando i cittadini alla riduzione degli sprechi, insegnare un corretto stile di vita per ridurre le possibilità di Alzheimer e ridurre il digital gap tra giovani e anziani. Si chiude con una tavola rotonda il progetto Generazioni Sostenibili, un'iniziativa che tra l'altro ha portato nei giorni scorsi all'apertura della bottega solidale, promossa da Ada Bari e Wilp, pensionati Puglia. Grazie alla sua istituzione si è resa possibile la distribuzione di beni alimentari, indumenti e beni di prima necessità ad anziani soli e a rischio isolamento. L'obiettivo di questo progetto era proprio quello di non soltanto diffondere una cultura eco-sostenibile, quindi evitare i risprechi alimentari, ma anche creare un forte legame intergenerazionale. E noi come Ada Bari, come Wilp, pensionati, anche in collaborazione con il centro Alzheimer e l'assessorato al welfare del comune di Bari, abbiamo proprio attivato una serie di laboratori di educazione alimentare dove gli anziani hanno potuto imparare a non sprecare il cibo e quindi in una prospettiva eco-sostenibile. Il nostro contributo è stato quello di lavorare anche sulle malattie neurodegenerative e quindi di parlare dell'importanza soprattutto dell'alimentazione in queste malattie è di aiutare tutte le persone di una certa età ad avere un'alimentazione sana. Potremmo definire la dieta per un Alzheimer in una maniera molto semplice, pratica ma purtroppo è buona per noi, la classica dieta mediterranea dove si vanno ad eliminare le sostanze che incidono in una maniera pesante e si danno quelle invece che puliscono gli scavenger, cioè agiscono come spazzini. Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano traccia il bilancio del 2022 e inaugura il nuovo anno giudiziario. Sentiamo Flavio Insalata. 203 cause introdotte, 232 cause decise, 9 archiviate, numeri in linea con l'anno scorso quando furono introdotte 212 cause e decise 227. Questi numeri del Tribunale Interdiocesano Ecclesiastico chiamato a decidere sull'annullamento dei matrimoni. Tracciato il bilancio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 che avverrà il prossimo primo aprile. Il 2022 è stato l'anno di ritorno alla normalità rispetto all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia che ha condizionato i rapporti sociali e lavorativi e dell'accelerazione nella conclusione dei processi, obiettivo primario del Tribunale. L'appello sulla sentenza di primo grado infatti non è più obbligatorio ma è facoltà della parte interessata o del difensore del vincolo. Sono stati celebrati otto processi con il rito brevior, tutti conclusi con sentenza affermativa. Tra le novità anche la costituzione ad oria di un Tribunale Diocesano competente per la nullità matrimoniale. Nelle conclusioni il Tribunale Interdiocesano sottolinea l'impressionante differenza tra le cause di separazione celebrate nei tribunali civili, quasi 6.000, e quelle del Tribunale Ecclesiastico con pochissime coppie che si rivolgono al discernimento giudiziale della Chiesa. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alla cultura degli spettacoli partendo dal cosiddetto Foribi Fest con la ormai arcinota bianchina di Lolita Lobosco in via Sparano a Bari. Sentiamo Antonella Fazio. Quando si pensa alla vicequestora Lolita Lobosco la prima immagine che ci viene in mente, oltre alla fotografia che regala una Bari illuminata e solare è quella della sua interprete Luisa Ranieri che sfreccia sul lungomare del capoluogo a bordo della sua bianchina e che con la stessa bianchina parcheggia in curante dei divieti di transito della vita reale all'ombra della cattedrale di San Savino nella città vecchia. La fiction televisiva arriva in via Sparano, salotto buono della città. Davanti a una gioielleria cittadina per la rassegna Fuori Bifest il cartellone collaterale del comune di Bari che coinvolge le attività commerciali della città in questi giorni di festival arriva la stessa autovettura e la creatrice della vicequestora in tacchi a spillo la scrittrice Gabriella Genisi. Il magico mondo di Lolita, io lo chiamo, questa cosa che è partita appunto dai libri e piano piano come in uno stagno dove lanci un sassolino poi si scatenano onde concentriche e quindi la collana di Lolita è una di queste cose legate appunto alla città, a Bari, al personaggio e sono felice di essere qui in questo contesto sia di un, come si dice, decano del commercio barese quindi una delle attività storiche della città di Bari ma anche in un contesto legato al cinema e al Bifest che è questa manifestazione ormai internazionale direi che lega la città di Bari al cinema. Dopo i grandi successi mondiali arrivano in Puglia con il loro tour Damiano, Victoria, Ethan e Thomas al Palaflorio di Bari in Maneskin ancora. Antonella Fazio 328 certificazioni a livello mondiale con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d'oro con questo Palmares arrivano a Bari con il loro Loud Kids Tour Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ovvero il fenomeno, Maneskin 32 concerti nei più grandi palazzetti d'Europa 29 date sold out e all'orizzonte 5 appuntamenti negli stadi e un nuovo tour mondiale per la band romana che arriva al Palaflorio con ben 5582 biglietti venduti da oltre due anni cinturata sin dal primo pomeriggio l'area che circonda il palazzetto barese e dalle 15 chiuse anche le uscite 14 della tangenziale massimo di spiegamento di agenti e mezzi della Polizia Locale della Questura oltre a 150 uomini della sicurezza sin dalle prime ore di questa mattina fanno in delirio e lunga attesa per accaparrarsi i posti in prima fila, cancelle aperti alle 18 Da che ora siamo qua? Dalle 8 Dalle 6 mi dicono invece là in fondo Siamo fuori testa ma riversi da loro E tu sei fuori testa ma riversi da loro Cresce la febbre Mane Skin a Bari e in tutta la Puglia Adesso parliamo di turismo tornando nella BAT con la presentazione di un evento alla presenza dell'assessore regionale Lopane Sentiamo Maria Fiorella Una storia di successo quella della Puglia nel turismo che dobbiamo anche saper raccontare a noi stessi Dei successi di questa storia si è parlato nel sesto appuntamento di EISUD dal titolo Tutti pazzi per la Puglia Molteplici gli aspetti affrontati ripercorrendo le tappe che hanno portato il tacco d'Italia a divenire la meta di punta di un turismo internazionale Grazie al lavoro che è stato fatto che è iniziato sin dai tempi del presidente Vendola che ha voluto collegare la nostra regione tramite i due aeroporti con il nord Europa soprattutto e con tante altre nazioni quindi facendoli diventare aeroporti internazionali Noi possiamo parlare adesso di turismo possiamo parlare di crescita L'assessore al turismo Francesco Lopane ha spiegato che la regione è attenta al fenomeno e punta a valorizzare il territorio attraverso uno studio che tiene insieme ogni settore che contribuisce alla promozione della Puglia La regione Puglia sta mettendo mano all'aggiornamento del piano strategico un lavoro importante che servirà a riposizionare i prodotti turistici che permetteranno una sostanziale diversificazione dell'offerta un'offerta basata intanto sul mare, sulla nautica ma anche prodotti emergenti nuovi quelli legati all'autodoro, ai cammini, al bike la grande ricchezza dell'enogastronomia sono tutti elementi di una diversificazione di un'offerta ampia che oggi ci permette di lavorare davvero anche nei mesi spada Durante il talk Francesco Caizzi presidente di Federalberghi Puglia ha invece puntato il dito contro i B&B abusivi dove finisce l'imondizia che producono se non sono censiti ha chiesto chi paga la Tari per quelle strutture Andiamo a Foggia adesso per una partita di calcio commemorativa in campo anche delle istituzioni Antonella Davola Allora Alessandro, cosa rappresenta questa partita di calcio per voi? Beh, sicuramente è un'occasione sia per noi che comunque viviamo in questo ambiente quotidianamente ma anche per confrontarci con chi ci difende quotidianamente sono molto contento comunque perché sicuramente è un nuovo tipo di confronto ecco, giocare contro le forze dell'ordine comunque persone più esperte persone che fanno un'attività molto importante dalla mattina alla sera che si dedicano appunto a un po' di sano sport Prima un incontro all'interno della Chiesa Sacro Cuore con i ragazzi dell'oratorio e poi una partita di calcio all'insegna della legalità e l'ultima in ordine temporale delle azioni di vicinanza e sostegno da parte delle istituzioni alle realtà particolarmente complesse e difficili della città di Foggia qual è il quartiere Candelaro dilaniato notte e giorno datti di vandalismo e criminalità L'evento Diritti in Gioco svoltosi nelle scorse ore alla presenza delle massime autorità e istituzioni del Capologo Dauno è stato organizzato da Libera e dai Salisiani Don Bosco in memoria di Franco Marcone Signor Questore, è un calcio alla criminalità? Un calcio, anche due o più di due credo che sia il caso di darli soprattutto oggi che ci facciamo vedere tutti quanti vicini a questa realtà molto viva del territorio foggiano dove un prete sta facendo secondo me un ottimo lavoro e quindi è importante che tutte le istituzioni siano vicine alla parrocchia di Don Antonio io cercherò di dare anche il mio contributo sportivo io sono un grande sportivo Purtroppo c'è spesso un atteggiamento di paura di protezione a volte anche di disprezzo verso le forze dell'ordine perché abbiamo voluto questo momento insieme anche all'Associazione Libera vogliamo questi momenti proprio per dirci che siamo tutti dalla stessa parte è tutto per il Tg provinciale di Baribatte e Foggia adesso tra pochissimo il Tg di Taranto poi le news da Brigisi e Lecce rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo a presto